Oggi ho proprio una gran voglia di pollo, in realtà volevo farlo proprio sulla brace fuori all'aperto però le condizioni meteo sono pessime, le condizioni mie di salute ancora ho mal di gola e sono mezzo acciaccato per cui ho declinato il fatto di cuocere all'aria aperta però non mi arrendo, oggi mangerò il pollo come alla griglia, ma fatto veramente come piace a me poi se è fatto bene ditelo voi e scrivetelo nei commenti, buona visione! Oggi vediamo come preparare un bel pollo alla griglia nel forno elettrico di casa e vediamo come farlo venire bello succulento e saporito per prima cosa vado a procurarmi qui davanti casa un po' di rosmarino e anche mi serviranno un paio di spicchi di aglio che vado a schiacciare per esaltarne ancora di più il profumo dopo aver sezionato il pollo, a me piace la coscia e il sottocoscia li abbiamo tutti quanti tagliati e separati dall'osso in questo modo qua vedete così la cottura sarà ancora più ottimale perché il pollo ha bisogno di una lenta cottura ci vorrà circa un'oretta e siccome ancora il camino non è acceso per questa volta lo facciamo nel forno elettrico ma verrà assolutamente strepitoso andiamo a fare una bella spolverata di origano selvatico bello profumato innanzitutto il pollo dopo averlo sezionato lo abbiamo lavato e asciugato a seguire mettiamo anche una bella spolverata di aghi di rosmarino e poi prima di metterlo nel forno e intanto lo stiamo facendo preriscaldare a circa 200 gradi lo lasceremo così un po' insaporire ancora prima di metterlo nel forno successivamente al rosmarino certamente andiamo a tagliuzzare gli spicchi di aglio per quanto riguarda gli aromi ovviamente potete utilizzare quelli che più vi piacciono potete utilizzare il timo, il prezzemolo, il limone, il vino, il pepe nero io per esempio non metto l'olio e mi piace soltanto aglio, come state vedendo, rosmarino e origano l'aglio non lo andiamo a fare troppo piccolo così se a qualcuno non dovesse piacere poi eventualmente lo può anche rimuovere però il profumo se vi piace ci sta davvero molto bene il pollo alla griglia è una delle preparazioni più antiche e amate al mondo offrono una vasta gamma di sapori unici proprio le marinature che poi si vanno a scegliere nel corso degli anni la cottura del pollo alla griglia è diventata una tradizione celebrata in molte famiglie riunendo le persone intorno a un pasto davvero delizioso e sempre ben condiviso è inutile dire che il pollo certamente deve essere di qualità questa è la prima cosa alla base di ogni preparazione allora dopo avergli dato un'oretta di tempo che la carne ha già iniziato a prendere il profumo di quello che abbiamo messo sopra andiamo ad adagiare il pollo sulla griglia a me per esempio quando faccio queste preparazioni mi piace mangiare soltanto il pollo né pasta né niente prima voglio gustarmelo due o tre cosce due o tre sottocoscia e il pranzo è servito adesso cari amici ci vuole soltanto pazienza come vi dicevo prima il pollo ha bisogno di una cottura lenta la carne deve cuocere intorno ai 70-80 gradi all'interno e il forno come vi dicevo l'ho preriscaldato a circa 200 gradi lo inizio a far cuocere nella parte bassa se poi uno vuole la parte esterna più croccante basta metterlo più verso la resistenza e poi alla fine si doverà più o meno ogni quarto d'ora 20 minuti lo togliamo, lo controlliamo, lo invertiamo di posizione e al momento giusto come in questo caso lo andiamo a girare non abbiamo messo sale all'inizio e adesso che lo giriamo invece lo andremo ad aggiungere inutile a dirvi il profumo che già si sente perché sono certo che voi meglio di me riuscirete ad immaginarlo chi non ha la fortuna di allevarsi i polli a casa se lo andate a comprare anche perché in commercio ci sono anche polli di qualità per cui pretendete dal vostro macellaio di fiducia che certamente saprà consigliarvi il meglio e scegliete un pollo degno di voi invece di mangiarlo quattro volte al mese mangiatelo due e scegliete quello buono perché la qualità c'è, ha il giusto prezzo ma comunque in Italia ancora si può mangiare delle cose davvero buone e io parlo da nord a sud ok abbiamo girato il pollo lo andiamo a riposizionare nel forno e man mano come vi dicevo prima lo controlliamo perché la cottura alla fine deve essere bella dorato all'esterno morbido e succulento all'interno cotto al punto giusto non deve rimanere crudo mettiamo il sale anche dall'altro lato e direi che ancora tra un quarto d'ora 20 minuti ci siamo e nel frattempo che tutti insieme aspettiamo la cottura finale del pollo voi potete tranquillamente iscrivervi al nostro canale se vi fa piacere attivare la campanellina in basso a destra così sarete avvisati ogni qualvolta che caricherò una nuova videoricetta a me farebbe piacere eccolo qui bello pronto dorato e questo è il momento di tirarlo fuori dalla griglia purtroppo in questo periodo non si può fare all'aria aperta perché inizia a farlo un po' freddo però ancora è presto per accendere il camino a casa siamo in questo periodo di mezzo che se ti viene voglia di un bel pollo alla griglia conviene farlo nel forno elettrico eccolo qui guardate intanto che bella doratura che è alla pelle è bello rosolato da entrambi le parti la cottura è durata circa un'oretta così come vi avevo anticipato e ragazzi adesso non mi resta che fare l'assaggio so che lo state aspettando il pollo in genere si dovrebbe mangiare con le mani anche se scotta strepitoso la pelle croccante aggiunge proprio quell'elemento sorpresa ad ogni morso che si va giusto a contrastare con la perfetta morbidezza della carne e così si crea davvero una sinfonia di consistenza gli aromi si sono tostati e affumicati e hanno aggiunto alla carne quel profumo e quel sapore che la rendono davvero unica proprio una combinazione di sapori la croccantezza è perfetta e anche la tenerezza della carne non vi resta che provare a farlo è semplicissimo e buon pollo alla griglia a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti